Solina, Lombardia e Campania hanno istituito il coprifuoco fino alle 23. Il consigliere del ministro Speranza, il professor Ricciardi, dice che servono lockdown mirati a Milano e anche a Napoli. Vuol dire che come governo avete varato delle regole poco efficaci? Noi come governo, sin dall'inizio della pandemia, abbiamo provato ad agire seguendo dei principi che fossero sicuramente quelli di proporzionalità e di gradualità delle misure. Ciò ha significato che quando è stato il momento di chiudere abbiamo fatto dei lockdown che hanno fatto anche molto soffrire la popolazione perché sappiamo bene che è stato un periodo molto triste per tutti noi. Adesso siamo molto più preparati, non siamo più a marzo e ad aprile. Io faccio l'esempio della scuola, abbiamo lavorato tutta l'estate proprio per evitare che le scuole potessero in qualche modo chiudere. Oggi bisogna agire in maniera chirurgica, quindi lockdown non generalizzati perché questo farebbe molto male sia al nostro tessuto economico e sociale, ma andare ad intervenire dove ci sono sicuramente dei problemi. Quello indubbiamente sì. Faccio l'esempio della scuola. A marzo, aprile e maggio... Aspetti, aspetti, Ministra Azzolina. Ministra, aspetti, voglio sentire...